come mai io mando a fanculo una cena così dove si beve, ci divertiamo e si manda a fanculo dei personaggi e diventa terza sulle cose virali di Youtube e invece quando uno fa una canzone dedicata ai bambini malati non se lo caga nessuno è incredibile come io per fare follower oppure like devo mandare a fanculo qualcuno allora là ci sei, perché tu mandi a fanculo Fedez, mandi a fanculo Vacchio o tanti altri personaggi a prescindere se uno è d'accordo o no, però poi quando fai una canzone e tutto ricavato compri i giocattoli per i bambini dell'ospedale, ragazzi che soffrono, bambini con la leucemia e tantissimi problemi e invece non se lo caga nessuno, dice no vabbè tranquillo però mi vado a vedere quando manda a fanculo a Vacchio eccetera eccetera boh io non lo so, voi siete d'accordo con questa cosa eppure il rap che mi hanno insegnato non è così, il rap che mi hanno insegnato è quello che vuole un pochino anche Tupacco lo vuole Picchi, sicuramente non è la cazza dei rini, non partecipi a Sanremo non partecipi a Sanremo, non so se siete d'accordo, poi ovviamente ogni uomo non c'ha la propria risposta il grande mio fratello Alfonso Laverghetta, non penso grazie